Fiammetta Benetton conduce eccellenti. Ben ritrovati in questo uggioso giovedì, ancora una volta in diretta, per parlare di attualità, per conoscere meglio il nostro territorio attraverso la voce di chi effettivamente ne fa la storia. E oggi la voce è quella di Vittorio Ceccato, che ringrazio per essere presente in trasmissione con me oggi. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Grazie a te. Tu sei vicepresidente Confesercenti Rovigo Venezia, o meglio Venezia Rovigo sarebbe quella corretta, ma noi ci mettiamo prima un po' di campanilismo. È la prima volta in radio per te? No, non è la prima volta in radio, però c'è sempre un po' di emozione, per cui ci vengo volentieri e mi metto la prova. Grazie. Allora, oggi sarà una puntata, quella di oggi, sarà una puntata in cui andremo ad affrontare numerose tematiche. Intanto cercheremo di spiegare al nostro pubblico chi è Confesercenti e che cosa fa. Tra l'altro in questo momento Confesercenti è molto attenta, perché siamo sotto periodo di saldi, e quindi anche qui tante cose da fare, tante cose da valutare, soprattutto regole da far rispettare. E dopodiché andremo a capire meglio il mondo di Confesercenti, perché in mezzo ci sono anche importanti bandi camerali, che fanno del bene al nostro territorio e permettono un continuo progresso, ma c'è anche la vita professionale extra Confesercenti di Vittorio Ceccato, che in realtà fa l'agente immobiliare. Corretto. Benissimo, e allora anche di questo andremo a parlare tra pochissimo. Quindi una puntata all'insegna dell'attualità, non perdetevela, rimanete con noi. Noi ritorniamo fra pochissimo, intanto un po' di musica. Ed eccoci quindi rientrati in onda, Vittorio, abbiamo fatto una brevissima presentazione di te, quindi vicepresidente della Confesercenti, Rovigo Venezia, io continuo a dire Rovigo per prima, non me ne ho vogliato, è vero ogni tanto, e nonché agente immobiliare. Iniziamo per i gradi, andiamo a scoprire meglio il mondo di Confesercenti. Chi è e che cosa fa Confesercenti? Confesercenti è un'associazione di categoria che racchiude al suo interno appunto diverse, categorie di lavoratori, di professionisti, principalmente comunque di attività commerciali, tra cui poi parliamo di esercizi pubblici, parliamo degli ambulanti, parliamo anche degli agenti immobiliari, infatti io arrivo qui attraverso questo percorso, e in questa sede cosa possono trovare le varie categorie? Possono trovare un'assistenza a 360 gradi, in tutto quello che può essere l'ambito amministrativo, l'ambito fiscale, l'ambito promozionale anche, perché Confesercenti svolge delle attività importanti per promuovere le attività, per promuovere il lavoro, per fare rete anche, per rendere più disponibile quello che può essere le potenzialità delle varie attività all'interno dei vari contesti urbani, che possono essere la città di Rovigo e poi anche tutti i territori collegati della provincia, arriviamo dal mare fino a Bergantino, Castelmarsena, insomma dall'altra parte. Si prende tutto il territorio. Parliamo a coloro che stanno pensando di aprire un'attività commerciale e che scelgono o sceglieranno di iscriversi a Confesercenti. Come farlo, ma soprattutto perché spingersi verso questa associazione di categoria? Come farlo? È semplicissimo, basta rivolgersi ad uno dei nostri uffici sul territorio, che sono disseminati perché abbiamo diverse sedi territoriali e quindi si può arrivare a questo facilmente. Perché? Beh, proprio per quello che dicevamo prima, quindi per avere un'assistenza completa a partire proprio dalle pratiche di apertura della partita IVA, ma poi per tutto quello che può essere necessario perché l'attività poi sia in regola sotto tutti gli aspetti, perché sappiamo che ci sono tantissimi adempimenti che vanno svolti, poi differenziati e specifici da attività ad attività, e quindi noi poi ci occupiamo anche eventualmente di erogare i corsi che servono all'abilitazione professionale o all'abilitazione in generale di determinate categorie, perché appunto chi vuole svolgere un'attività o chi la sta già svolgendo, vuole ampliare le proprie potenzialità lavorative, chi vuole cambiare categoria marceologica o cambiare zona, può accedere a questi corsi che vengono arregati periodicamente e conseguentemente poi essere sempre perfettamente a posto con tutto. In questo momento qualche esercenti senza ombra di dubbio deve rimanere molto attenta sotto il profilo dei saldi. Come mai questa è una tematica così calda e che continua a rimanere calda anche nel tempo? Perché bene o male periodicamente si torna a parlare di saldi, si torna a parlare di problemi legati a questi, alle svendite promozionali che vengono fatte in maniera non autorizzata prima dell'inizio ufficiale del periodo dei saldi, quindi inquadriamo un po' questa vicenda. Ma hai già toccato un po' il tasto. Per Confessor Centi è un cavallo di battaglia, nel senso che è una battaglia che si sta combattendo a livello nazionale già da moltissimo tempo e su cui purtroppo finora non c'è stato un riscontro preciso. I saldi ormai sono una materia vasta, variegata, dove ci sono tante sfaccettature, tendenzialmente tutte un po' svilenti di quello che può essere poi il vero significato dei saldi, perché c'è apertura per tante altre forme promozionali che poi quindi disperdono un po' quello che può essere il vero momento dei saldi di fine stagione, perché per tutta una serie di motivi ci sono tutte eccezioni normative che fanno venire un po' meno proprio quello che è il significato degli sconti di fine stagione. Poi ad aggravare questo c'è anche il fatto che non c'è omogeneità a livello nazionale, a livello territoriale, per cui ci sono regioni o addirittura anche province che iniziano i saldi con tempistiche differenti e questo crea ancora più confusione. Da ultimo ci mettiamo il fenomeno che si sta verificando, soprattutto nella fine della stagione invernale, già da due o tre anni in questa parte, che si sta spostando un po' anche proprio l'effetto climatico dell'inverno, per cui si entra nel periodo dei saldi quando in realtà non è ancora arrivato il freddo vero e quindi la gente fa fatica, il cliente medio fa fatica ad andare ad acquistare dei capi che poi probabilmente neanche utilizzerà o pensa magari di non utilizzare o di andare a ricorrere semplicemente ai saldi e quindi la stagione viene penalizzata moltissimo. Ecco perché da tempo chiediamo proprio una revisione completa di tutto quello che è il sistema delle scontistiche, dei saldi, delle promozioni. Qual è quindi la vostra proposta? Noi abbiamo una proposta articolata che adesso è anche un po' difficile da spiegare perché va calata proprio nello specifico e che abbiamo portato avanti a livello ministeriale nei tavoli di confronto a livello nazionale ma che non è approvata anche dalle altre associazioni. Perché anche questo poi diciamo la criticità che vorremmo trovare una formula che sia approvata anche dagli altri nostri non competitor perché insomma non siamo in grande competizione facciamo i colleghi i nostri colleghi ecco sì delle altre associazioni che possano avere una visione comune su questo argomento. Vediamo spessissimo soprattutto i commercianti che appunto vendono abbigliamento e quindi scarpe abbigliamento che si trovano a lamentare il discorso che come dicevi tu i saldi non sono mai saldi di fine stagione ma di fatto ormai sono quasi saldi di inizio stagione cioè le persone attendono il momento dei saldi per comprare della merce che è meravigliosa a dei prezzi che tendenzialmente sono fin troppo bassi per garantire al negoziante poi di rientrare dalla spesa che lui ha dovuto fare all'inizio. Ma c'è ancora chi fa il furbetto sul cartellino? Su questo direi di no ecco ormai i commercianti hanno imparato ma direi che Rovigo è sempre stata una piazza molto corretta, molto attenta in questo senso qua non abbiamo mai registrato grandi fenomeni forse qualcuno molto molto sporadico però in passato proprio perché il negoziante ormai tende il più possibile a instaurare un rapporto fiduciario col proprio cliente non pensa lontanamente poi di andare a intervenire in questo senso perché perderebbe la fiducia del cliente medesimo e quindi sarebbe una perdita grossissima. Ma secondo voi potrebbe essere una soluzione spezzettare il periodo dei saldi durante l'anno anziché fare i due grandi periodi che vediamo adesso? Non rispondermi Mi rispondi tra qualche istante ci fermiamo un attimo abbiamo la regia che ci bussa alle spalle un po' di musica intanto ragioniamo su questo tema e rientriamo quindi in onda con Vittorio Ceccato vicepresidente Confesercenti Venezia Rovigo questa volta la dico correttamente ci siamo lasciati pochi minuti fa con un quesito varrebbe la pena spezzettare ulteriormente il periodo di saldi quindi fare più svendite durante l'anno per far sì che effettivamente i magazzini vadano a svuotarsi per poter fare spazio alla merce nuova o anche questo potrebbe essere un danno al commercio? È un tema indubbiamente sono cose o situazioni che potrebbero essere perlomeno sperimentate per verificare effettivamente quello che può essere poi il ritorno sia per le aziende che per i clienti perché la cosa deve essere comunque equilibrata e vicendevole certo è che la situazione attuale è comunque penosa direi per cui pensare a nuove soluzioni vale sempre la pena cercare di metterla in pratica soprattutto perché dopo noi abbiamo proposto in più volte di modificare la disciplina però attualmente non c'è ancora stata data una risposta in questo senso il governo ha sempre dei temi più scottanti magari o più urgenti a cui far fronte quindi questa cosa viene sempre lasciata un po' nel dimenticatoio Certo Un'altra cosa particolare che però ha poco a che fare con il momento dei saldi ma è proprio una tradizione che c'è qui a Rovigo è il momento dello sbaracco Lo sbaracco funziona ancora? Assolutamente sì anzi in questo momento i commercianti del centro soprattutto ci stanno sollecitando perché venga comunque messo in piedi come tutti gli anni questo momento che per loro ormai è una tradizione è molto atteso anche e soprattutto dai clienti e quindi è sicuramente una cosa a cui daremo seguito abbiamo già preso i contatti con chi di dovere stiamo già sistemando tutte le richieste a livello autorizzativo come giusto che sia perché venga fatto come si deve Quando dovrebbe essere quest'anno? Solitamente è sempre proprio verso la fine del periodo dei saldi quindi fine febbraio se non ricordo male l'anno scorso è stato fatto il primo weekend di marzo siamo sempre lì al limite Bene insomma lo attendiamo questo sbaracco che si parla quindi mi parli a capire in ogni caso Sicuramente sì Parliamo invece di un altro tema molto importante dei bandi camerali che cosa sono? I bandi camerali sono delle delle erogazioni diciamo così che vengono effettuate da parte della Camera di Commercio che ovviamente presuppongono un progetto presuppongono una realizzazione di attività e di iniziative collegate al bando medesimo quindi con delle finalità specifiche con delle applicazioni molto precise perché il bando chiaramente ha al suo interno proprio la descrizione di quello che si vuole perseguire come finalità ma comunque sono delle opportunità molto importanti per le aziende e per il territorio perché dopo quello che viene fatto tante volte quando parliamo ad esempio di rigenerazione urbana vuol dire valorizzare i luoghi valorizzare il territorio valorizzare la città renderla più accogliente più appetibile per chi da fuori la viene a visitare o per chi la fruisce comunque nella quotidianità e quindi renderla più confortevole e renderla più più facile anche da 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 utilizzare da fruire e questo va nella direzione appunto di creare migliori flussi per per il commercio per le attività per la città in generale ecco quindi e qui abbiamo toccato un tema ad esempio poi si parla di innovazione innovazione è un termine secondo me anche un po' abusato ma che racchiude al suo interno tante sfaccettature per i nostri commercianti a volte innovazione vuol dire praticamente quasi cambiare mestiere per questo che nel tempo questa applicazione è stata quella meno digerita ma che comunque pian piano sta entrando a 360 gradi nelle aziende perché si è proprio dovuto cambiare uno stile di lavoro fare il commercio oggi vuol dire utilizzare più servizi utilizzare più strumenti non fare semplicemente un'attività di rendita ma fare un'attività consulenziale perché il cliente ha un livello di di esigenza di richiesta molto diverso rispetto a tanto tempo fa questo comporta la necessità di avere più personale all'interno dei locali magari di dover adattare il metodo di vendita principalmente significa volersi aggiornare voler modificare il proprio approccio al lavoro e alle attività quotidiane perché magari i flussi sono ridotti rispetto a tempo fa però sono più mirati e quindi io magari all'interno di una normale giornata ho più tempo da dedicare ad altre applicazioni o ad altri servizi da creare o da erogare ai miei clienti anziché dovermi dedicare semplicemente al bancone diciamo così e quindi devo entrare in quest'ottica devo aggiornarmi devo fare dei corsi devo accogliere anche queste novità perché chi l'ha fatto collegando il commercio tradizionale del negozio fisico il servizio alternativo ulteriore rispetto al lavoro tradizionale e anche potrebbe essere giusto per fare qualche esempio potrebbe essere la consegna domicilio banalmente che era iniziata nel periodo del covid ma che tanti hanno continuato a portare avanti potrebbe essere un servizio parallelo a un determinato prodotto che richiede magari servizio di sartoria potrebbe essere adesso ce ne sono tante sfaccettature in questo senso qua diciamo quelle forme di attenzione al cliente che permettono di fidelizzarlo e di portarlo continuamente all'interno di un negozio o di un punto vendita perché si è trovato bene bravissima e al tempo stesso fare in modo che il cliente abbia qualcosa in più rispetto al normale commercio online che oggi come oggi è il grande oppositore che poi in realtà è un oppositore fino a un certo punto perché il commerciante è voluto sfrutta anche comunque le piattaforme online e oltre che fare la vendita fisica in negozio può fare anche comunque delle vendite per corrispondenza quindi unendo queste cose l'attività può andare comunque bene anche in un momento di mercato non frizzante come quello che può essere quello attuale ecco anche perché comunque un negozio digitale permette di ampliare gli orizzonti e di non essere localizzati in una sede geografica ma davvero di spaziare di spaziare moltissimo decisamente secondo te questa è più un'attività alla quale guardano i ragazzi giovani o alla quale guardano anche magari i punti vendita storici che capiscono e annusano nell'area la necessità di evolversi beh lì è inevitabile che chi è più giovane faccia prima recepire queste novità o addirittura quelli che noi chiamiamo nativi digitali essendoci nati in mezzo lo possono vivere con un'estrema tranquillità e facilità però tante attività storiche tante attività già radicate nel tempo sono si sono evolute hanno saputo comunque aggiornarsi e iniziare questi percorsi che per certi versi sono inevitabili e pertanto la scelta è stata anche un po' obbligata però come in tutte le cose la tecnologia e i mezzi nuovi devono essere comunque introdotti nella propria nella propria vita ci vuole un po' di coraggio ci fermiamo ancora a qualche istante poi continuiamo a parlare di questa cosa online offline pro e cult estremamente interessante questa puntata di eccellenti con Vittorio Ceccato nel quale stiamo toccando molti temi riguardanti il commercio proprio perché lui come vicepresidente di Confesercenti Venezia Rovigo ci sta illuminando su alcune cose abbiamo parlato molto di saldi abbiamo parlato della necessità del settore di evolversi e di guardare anche le nuove tecnologie con attenzione sicuramente con un po' di innovazione all'interno senza perdere ciò che c'è stato ma comunque guardando avanti e nel mondo del guardiamo avanti c'è sicuramente appunto questo commercio online quindi le vendite gli e-commerce e queste cose qui quanto sono ritenute ancora pericolose Vittorio dalla popolazione beh allora c'è da dire che ho usato un terminone pericolose quanto vanno attenzionate hanno un livello di pericolosità effettiva perché se pensiamo anche all'ambiente a tutto il traffico che si genera ci sono tanti studi che fanno vedere come ci sia un impatto molto pesante di tutto quello che gira intorno al prodotto che viene consegnato a casa certo è che anche lì è una situazione in piena evoluzione ha avuto il suo fulgore massimo nel momento in cui eravamo chiusi in casa per cui per forza di cose è stata preeminente rispetto a tutto il resto però adesso le cose si sono un po' normalizzate e anche hanno preso una piega un po' diversa tant'è che da una statistica che è stata fatta proprio l'anno scorso a livello nazionale di base le persone stanno tornando prepotentemente verso i negozi fisici perché comunque il rapporto diretto con il commerciante con l'esercente con chi gli può dare un consiglio con chi gli può dare un'attenzione maggiore sicuramente è introvabile ecco dal punto di vista è impagabile anche rispetto a quello che può essere il mero commercio online quindi su questo frangente è una battaglia che pian piano su cui stiamo pian piano riconquistando posizioni e allora facciamole convivere insieme fermiamoci qualche istante ed eccoci quindi traghettati già nella seconda ora un'ora è volata Vittorio non ce ne siamo praticamente neanche accorti come sempre qui ci lasciano senza caffè senza zuccheri quindi io e te tra poco probabilmente ci spegneremo insomma dovremo replicare e combattere contro questo momento di zuccheri glicemici sempre più bassi e però nella seconda ora andremo anche a parlare un po' più di te e della tua attività professionale dicevamo all'inizio della puntata tu sei un agente immobiliare esattamente e sei il responsabile della filiale Rovivo Centro dell'agenzia Casa per Casa esatto con te durante quest'ora mi piacerebbe un sacco affrontare le tematiche legate al mondo dell'immobiliare perché immobiliare significa privato ma significa anche un immobiliare che poi si rivolge al pubblico quindi pensiamo proprio al mondo dei negozi agli uffici e tutto ciò che poi riguarda i servizi alla persona in primissima battuta com'è la situazione in questo momento Rovigo del mercato immobiliare? beh la situazione è particolare però in evoluzione in positivo direi soprattutto perché ci sono tante opportunità per poter fare degli investimenti interessanti la città è in crescita soprattutto perché è arrivata all'università o meglio non è arrivata perché c'era già ma è stata implementata in maniera significativa negli ultimi due o tre anni abbiamo sempre il grande riflesso di tutto quello che gira attorno ad Amazon che è quello che arriverà a breve perché c'è un altro soggetto altrettanto importante che partirà a breve quindi ci sono questi fattori che condizionano molto anche lo sviluppo immobiliare ci fermiamo ancora qualche istante poi continueremo ad approfondire questa cosa e cercheremo di capirne molto di più grazie Vittoria e rientriamo quindi in onda ancora sul filo conduttore di ciò che dicevamo pochi minuti fa ovvero l'importanza di mantenere attivo il mercato immobiliare e soprattutto il modo in cui questo mercato venga alimentato anche dalla richiesta aumenta la richiesta da parte delle persone e di conseguenza migliora anche poi di fatto la floridità di un territorio perché non c'è niente da fare è così l'edilizia e comunque il mercato immobiliare fanno da tra dicevi prima che l'implementazione dell'università quindi l'arrivo degli studenti senza ombra di dubbio anche l'attività che si sviluppa attorno al polo di Amazon al polo logistico di Amazon sono due attrattivi importanti che fanno sì che ci sia anche una bella risposta da parte del territorio nello sviluppo e nella ricerca anche di una casa o comunque di uffici e come si diceva prima di negozi cosa richiede cosa richiede di più in questo momento il mercato ville appartamenti case ristrutturazioni nuovo beh in generale il mercato richiede parlo della città in particolare appartamenti di medie dimensioni e abitazioni indipendenti sempre due tre letto soprattutto tre letto la cosa particolare è che oggi come oggi la richiesta principale è focalizzata sui mobili che siano in condizioni pari nuovo diciamo così ovvero che siano il meno possibile da rimaneggiare questo perfetto del fatto che ci sono prezzi molto elevati tempistiche incerte sul fatto di fare dei lavori di ristrutturazione questo scoraggia molto i clienti nell'intraprendere questa strada e quindi si preferisce il più possibile trovare i mobili che richiedano manutenzioni di pochissima o di pochissima entità ecco dall'altra parte però questi immobili non sono frequentissimi sul territorio ecco che quindi si scatena quasi un'asta a volte su determinate unità immobiliari che vanno praticamente a ruba e quindi ci troviamo spesso nelle situazioni in cui un immobile che abbia un prezzo coerente con il mercato e che non abbia appunto bisogno di grandi lavori venga venduto 15 giorni non di più quindi insomma c'è buona possibilità per chi mette su piazza delle unità che siano comunque già pronte il mercato è sicuramente molto ricettivo questo è un riflesso anche di quello che è successo negli ultimi 2-3 anni con il 110 per cui tanti mobili che sarebbero stati messi sul mercato poi sul mercato in realtà non ci sono arrivati perché sono stati riqualificati sia condomini che singole unità individuali e conseguentemente queste persone non hanno più cambiato casa buon per loro chiaramente però la massa di mobili presenti sul mercato è ridotta rispetto a quello che sarebbe fisiologico ecco perché c'è questa tendenza per cui ci sono meno immobili rispetto a quelli che servirebbero ma questo non è un fenomeno solo di Rovigo è un fenomeno nazionale perché se ne parla sul solo 24 ore in giorno sì in giorno no rispetto a quello che voi vedete c'è un ritorno verso il centro città quindi la richiesta maggiore in centro città sempre ovviamente tenendo in considerazione le valutazioni che facevi prima o c'è anche l'attenzione delle persone del pubblico verso la campagna verso i famosi rustici eventualmente no? Quindi come si come si spartiscono? Premesso che ormai di rustici in giro ce ne sono veramente pochi perché nel tempo tanti quasi tutti sono stati acquistati e quindi già riqualificati anche lì è un po' uno spartiacque diciamo c'è chi predilige i servizi la comodità ma al tempo stesso deve tollerare il caos che può essere tipico del centro e quindi in quel caso si preferisce l'appartamento viceversa c'è chi invece vuole indipendenza vuole la tranquillità è anche disposto ovviamente a fare un po' più di strada a prendere in mano la macchina più frequentemente pur di avere appunto maggiore maggiore respiro e quindi opta per la soluzione indipendente verso la periferia e sotto il profilo invece dei negozi e degli uffici quali sono le richieste che vengono fatte allora i negozi tengono soprattutto nelle piazze principali nella parte nevlagica di corso del popolo che è quella ancora caratterizzata da un buon flusso commerciale poi sinceramente i negozi fanno fatica ecco perché se viene acquistato il negozio per investimento è difficile da affittare oppure il negoziante stesso se lo vuole comprare per sé fa fatica ad andarlo a comprare in una posizione periferica perché sa che poi avrà poco ritorno per cui punta chiaramente a posizioni di forte passaggio di grande visibilità gli uffici anche questo è un tema attualmente l'ufficio ovviamente verrebbe cercato con la possibilità di parcheggio facilitato con un posto con posti auto già a disposizione o comunque con aree di parcheggio libere o facili da raggiungere per cui tante volte chi cerca un ufficio lo cerca nella prima cintura della città non tanto in centro storico in centro rimangono vivi soltanto determinati sì determinate attività che necessitano di essere prettamente in centro ad esempio mi vengono in mente gli avvocati che devono fruire del tribunale dei vari uffici che comunque continuano a rimanere proprio in centro abbiamo visto nell'ultimo periodo alcuni negozi che sono stati affittati hanno aperto l'attività poi in brevissimo tempo se ne sono andati dal tuo punto di vista visto che hai questa duplice veste in questo momento della nostra trasmissione quindi confesercenti e contemporaneamente agenzie immobiliare che cosa sta succedendo c'è qualcuno che magari si innamora della città e poi nel momento in cui tocca con mano non ha abbastanza pazienza oppure sono persone che decidono di provare poi in realtà si rendono conto facendo strada che non era il loro percorso ma ecco sono sempre situazioni specifiche per cui bisogna entrare nel merito e capire cosa è successo se è stata una scelta voluta o dovuta certo è che partire da zero con un'attività commerciale oggi non è certamente semplice va ponderato molto bene e a volte vediamo che in realtà ci sono persone che partono un po' improvvisate diciamo così con poca preparazione o insomma con poche basi certo e quindi questo poi comporta che mantenere l'attività viva diventa decisamente difficile ecco perché noi invitiamo il più possibile le persone che desiderano aprire un'attività rivolgersi ai nostri sportelli per avere proprio una consulenza a 360 gradi perché noi siamo in grado di fare un business plan di dare una consulenza proprio dalla alla z di fornire degli strumenti anche di natura finanziaria per sostenere l'avvio dell'attività e per comprare le attrezzature tutte le varie eccezioni necessarie per cui sicuramente vale la pena farsi assistere in questo senso grazie Vittorio ci fermiamo ancora qualche istante e poi ritorniamo in onda per l'ultima parte della trasmissione ed eccoci quindi gli ultimi minuti insieme insomma manca ancora una mezz'oretta però insomma abbiamo gli ultimi minuti insieme a Vittorio Ceccato abbiamo parlato di bandi come camerali abbiamo parlato di saldi abbiamo parlato di mercato immobiliare insomma ci siamo fatti veramente una bella cavalcata nelle faccende che riguardano Rovigo e non solo una cosa mi è rimasta ancora da chiederti per quanto riguarda i bandi ci sono dei bandi camerali molto belli molto importanti come ad esempio quello che state portando avanti a Bergantino tra l'altro abbiamo avuto la sindaca è un rappresentante del distretto della Giostra nostri ospiti proprio ad inizio gennaio abbiamo iniziato parlando del sogno e loro facevano cenno anche all'importanza di questi fondi che poi permettono a paesi piccolini come ad esempio Bergantino ma tanti altri che ci sono nella nostra provincia di progredire di poter portare avanti delle progettualità che altrimenti rimarrebbero purtroppo dimenticate in un cassetto e che cosa state facendo con loro e con altre piccole realtà? beh in particolare a Bergantino appunto il bando è stato approvato quindi adesso si tratta di imbastire una rete che poi è già stabilita fondamentalmente perché le aziende che erano interessate a questo tipo di bando di finanziamento hanno già aderito sono un numero molto considerevole visto l'esiguo numero di attività che ci sono sul territorio ma infatti si sono avvicinate anche attività da altri comuni perché il bando prevede la possibilità di intercettare dei fondi anche nel momento in cui si va ad aprire una nuova attività e quindi qualcuno magari pensa a fare una filiale o a differenziare con altri servizi la propria attività e quindi sicuramente quel territorio avrà la possibilità di avere un nuovo respiro dal punto di vista commerciale turistico perché è un bando che riguarda la valorizzazione del territorio e dei percorsi anche dal punto di vista turistico e territoriale e quindi la cosa particolare è proprio il fatto che questo bando sia trasversale e quindi va a intercettare diverse esigenze che ha appunto il territorio infatti si chiama Bando Borghi perché prende dentro un po' tutta l'esigenza che il territorio può avere non soltanto quella specifica per il commercio ma delle attività e sì del turismo eccetera e questo lo sviluppo sì dei luoghi sarà anche molto valorizzato poi Bergantino ha la fortuna nel suo piccolo di essere vicino al Po e questo gli consente di inserirsi in tutta una serie di percorsi che sono cosiddetti di turismo lento come l'Avento che è quel percorso che unisce Venezia con Torino e quindi tante manifestazioni tante iniziative andranno anche in quella direzione per valorizzare ancora di più il territorio in modo che venga visto anche come un punto attrattivo da chi venendo da fuori non lo conosce voi siete coinvolti anche in queste in queste progettualità come appunto questa importantissima via ciclabile di cui stavi parlando in particolare no perché comunque è un'iniziativa che è stata portata avanti credo direttamente dalla Camera di Commercio siamo in altre progettualità perché noi facciamo parte anche del GAL del TAPO che comunque al suo interno ha questo tipo di potenzialità quindi valorizzare quello che il territorio può dare dal punto di vista della promozione stessa del turismo della cultura perché nel bando c'è tutto e quindi stiamo cercando di lavorare bene anche in quel contesto quali sono le realtà in questo momento alla quale si sta guardando con maggiore attenzione della nostra provincia sotto questo profilo quindi la promozione della turistica e non gastronomica anche perché non dimentichiamo c'è lo che ci sono anche dei prodotti tipici che abbiamo noi e della quale oggettivamente facciamo vanto in tutta la regione e anche un po' in tutta Italia vi verrebbe da dire quindi ci sono delle realtà che magari sono meno conosciute ma che vengono da voi confesercenti o comunque dalle realtà come il Gal maggiormente attenzionati in questo momento per svilupparle per aiutarle beh per carità ci sono tante cose che si potrebbero mettere sul piatto però dobbiamo partire sempre dalle cose principali che abbiamo in particolare noi abbiamo un delta meraviglioso che ancora adesso nonostante se ne parli ormai da tantissimo tempo è ancora un'area che ha delle potenzialità inespresse gigantesche e su cui ci si sta comunque in qualche modo concentrando per far arrivare questa situazione veramente ad una appetibilità dal punto di vista territoriale commerciale e turistica degna del suo nome ecco perché ci sono altre zone umide simili che invece hanno un richiamo globale e quindi bisogna stare attenti però dopo non snaturare le cose perché parliamo anche comunque di un'area naturalistica particolare delicata e quindi ci vuole molta attenzione però sicuramente possiamo farlo conoscere molto bene come poi siamo capaci di fare perché sappiamo sempre fare di necessità virtù e quindi il bello è questo avendo a disposizione le risorse si possono fare tante belle cose decisamente sì Vittorio ci fermiamo qualche istante poi ritorniamo proprio per i saluti finali e per la classica domanda diritto tu la conosci? no sono prende braviglia allora la teniamo sorpresa ed eccoci qui insomma siamo ad avere i saluti finali ultimi minuti assieme a Vittorio che ci ha tenuto compagnia per queste due ore nella duplice veste di vicepresidente confesercenti Venezia Rovigo ma anche di responsabile della filiale di Rovigo Centro di casa per casa insomma abbiamo parlato di tante cose abbiamo percepito anche la passione che c'è in tutto ciò che fai e la grande attenzione che ci metti in tutte le attività che svolgi è la realtà abbiamo ascoltato però c'è appunto la domanda di Rito con la quale chiudo tutte le trasmissioni e quindi ai miei ospiti io chiedo sempre se tu non avessi fatto nella vita ciò che hai fatto che cosa ti sarebbe piaciuto essere diventare fare? bella domanda mi cogli sicuramente impreparato perché sono talmente immerso in questa realtà che a volte ma probabilmente avrei fatto il cuoco qualcosa del genere qualcosa qualcosa inerente la ristorazione o comunque l'offerta enogastronomica ma ti diletti anche in cucina? qualcosina sì meraviglioso specialità? non grandi cose ma di solito mi dedico al pesce oh che non è facilissimo ma è più semplice di quanto non sembri sì sì se si hanno il prodotto buono viene tutto un po' da sé e quindi velocissimamente in dieci secondi un piatto da proporre per chi questa sera si metterà i fornelli una linguina con le capisante e la botarga abbiamo già la colina in bocca anche perché io e te siamo a digiuno quindi via pronti a comprare le capisante e le linguine grazie mille Vittorio Ceccato per essere stato con noi grazie a tutti voi che ci avete ascoltato come sempre potete seguire questa trasmissione anche anzi mi riascoltarla domenica dalle otto alle dieci del mattino oppure vederla anche sui nostri portali web e su tutti i nostri canali social come sempre eccellente ritorno giovedì prossimo la replica domenica non mancatela grazie ancora Vittorio grazie al nostro Andrea in regia e grazie a tutti voi per averci ascoltato e tenuto compagnia no grazie a tutti i nostri